Plotone, attenti! Avanti! Marci! Uno, due, uno, due, uno, due, passo! 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 Anche ora passo! Veramente non credevo di potervi implotonare per portarli al tiro, ospiti del nostro istruttore Massimo Cocchi. Reuben James, in my song will live again And the phrases that I rhyme are just a footsteps of time From the time when I knew you, Reuben James Reuben James All the folks around Madison County cussed your name Just an old count sharecropping colored man Steal anything you can And everybody laid the blame on Reuben James Reuben James Well you still walked for the fields of my mind Pitted shirt, weather cloud Calistans upon the cloud Vedi questo cusino qui, questo cusino che è stato mozzato? Sì! Per il motivo che adesso bisogna buttare la canna Per ammazzare meglio i cristiani Ho capito! La posta bubo è stato mozzato! Gli manca più! Per ammazzare i cristiani! Esatto! Però vedi quella vita con il cuocino di me sa che è il mirino per mettere il moto Il suorino che è un suo parente? Il mirino! Il mirino è il mio parente! Cioè se è il mirino non si giappa niente! Ho capito! Eh professore! Dica! Le armi sono... L'arma bianca cos'è? La prima è questa! No questa è la fionda! No questa è la sfionda! La sfionda! Qual è? La sfionda! No, non la fionda! La sfionda! Esatto! Esatto! Oh! Chi t'ha tirato? Eh! Mirko! Mi ha sbagliato! 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 Mirko! Quando tiri le frecce! Staci attento! Perché... Sempre sbagliato! Mi devo ancora svegliare stamattina! Ma te l'hai fatto il militare? No! Però fate la gente un segreto! Fino a sette anni! Poi basta! Come ti ho spiegato questa è la posizione in piedi! Eh? Questa è la sua! La tua è la posizione in piedi! No! Devi alzarti! Perfetto! Tanto si è alta uguale! Uguale! Più o meno non cambia granché! Allora! Come mi devo... Così! Allungare questo braccio! Devi andare... Devi spingere verso il bersaglio! Ok! Ok! Poi questa... Questa mano qui... Devi... Stringere l'altra mano! Guarda! Ti fa sentire io! Così! Questo pollice dritto! E l'altro sta così! Perfetto! E devi stringere! Non è che ti sto facendo manine! Ok! Perfetto! Questa è la posizione ideale! Vi ricordo che state vedendo un programma atteso alla difesa di voi cittadini! Perché noi lo facciamo per voi! Al tre! Noi facciamo uno, due, tre! Noi lo facciamo per voi! Vi difenderemo da eventuali attacchi nella nostra provincia! Perché questa falange che abbiamo costituito si chiama Falange Arsenico Vigilanza Arezzo! In sigla la Fava! E se non credete che vi possiamo difendere venite a trovarci! Toccate con mano la Fava! E vedrete che siamo in condizioni di tutelarvi! A presto! Salutiamo a tre! Ciao! Ciao!